L'arrivo alla spezia dei gloriosi reduci della divisione 23 marzo, ricevuti allo sbarco dal sottosegretario alle comunicazioni De Marsalic, dal capo di stato maggiore della milizia generale russo, da numerose autorità civili e militari e da entusiastiche dimostrazioni di popolo. Lavorazione delle ceramiche in uno stabilimento di Pesaro. I vari oggetti, poggiati a mano dalla paziente abilità degli artefici, dopo essere stati cotti a circa 1200 gradi, vengono immersi nel bagno di Maiolica. Si procede quindi alla delicata lavorazione artistica d'accurata decorazione pittorica con colori composti di ossidi metallici. In seguito gli oggetti vengono spruzzati e completamente ricoperti di calcinato di piombo, ciò che costituisce la cosiddetta invetriatura. una seconda cottura a circa 1000 gradi e gli oggetti estratti dal forno dopo il raffreddamento passano all'esposizione e alla vendita. in seguito gli oggetti